Siamo in collegamento con Francesca Esposito, referente di Acco Club Italia. Salve, grazie per essere in collegamento con noi. Ben trovata. Salve. Allora, i ragazzi con disabilità e i ragazzi del centro di giustizia minorile insieme per tutelare l'ambiente. Cosa concretamente è stata questa iniziativa e qual è stato l'obiettivo? Allora, questa iniziativa nasce da un'iniziativa molto più grande che è il progetto Busbusters. Il progetto Busbusters insieme al centro di giustizia minorile di Napoli ed insieme anche ad altri enti come la Marina Militare, il Corpo Militare di Malta e i circoli del Borgo Marinaro di Napoli hanno creato appunto questo progetto che prevede una sorta di riscatto da parte di questi ragazzi che frequentano l'area penale della regione Campania creando appunto questo progetto che prevede una sorta di tutela da parte loro del nostro patrimonio ambientale. Ci tengo a precisare che non sono i ragazzi di Nisida ma sono i ragazzi del centro di giustizia minorile dei Colli Aminei e sono praticamente ragazzi sicuramente dell'area penale ma sono comunque ragazzi che vivono o presso le loro famiglie o presso comunità. Loro insieme al centro di giustizia minorile hanno cominciato questo percorso di riabilitazione. Il mare ha un po' questa grande funzione di unire e riscattare le vite delle persone quindi loro grazie a questi brevetti un giorno potranno anche usarli non solo da un punto di vista associazionistico quindi aiutarci con Mare Nostrum e creare eventi come quello di sabato ma anche un giorno magari prendendo altri brevetti utilizzare questo come fonte di lavoro. Quanti sono stati i ragazzi che hanno partecipato sabato? I ragazzi del centro di giustizia minorile sono i nostri ragazzi del progetto Boost Busters che sono sette ragazzi e oltre ad altri ragazzi volontari che sono venuti da ogni parte della provincia di Napoli oltre alla nostra sede napoletana che è l'archeoclub di Napoli Sede Partenope oltre ad altre associazioni che hanno partecipato o anche liberi cittadini che erano semplicemente scesi a Posillipo per fare il bagno e ci hanno visto e hanno deciso di contribuire anche loro. Qual è la condizione del nostro mare? È una condizione sicuramente precaria. Il mare è un bene da tutelare e da preservare. Il mare di Napoli è sicuramente in condizioni precarie, come dicevo. Abbiamo veramente bisogno di tavoli funzionali, non sulla parole. Abbiamo necessità di atti concreti perché veramente è uno dei beni, delle risorse più grandi che la campania ha e non possiamo voltarci sempre altrove pensando che le cose sono sempre andate in questo modo quindi continueranno a essere così. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a tutti voi.